E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono AnderZ e oggi faremo un video tutorial su come fare soldi infiniti e punti infiniti su NBA2K12. Allora aprite il gioco intanto e andate in questa schermata vedete abbiamo 67k lo chiedete così poi aprite certi ingine andate su priorità e fare come amministratore io naturalmente l'ho già fatto applicate e ok lo andiamo aprire di questa finestra la quale c'è verde e rosso cliccate adesso i miei poi dovete copiare questo codice qua questo qualche vi mostro questo copiate e lo mettete qua dovete andare qua su questo qua che vedete qua sopra ok cliccate due volte qui e facciamo un miliardo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok fate la spunta qui tornate al gioco e che non è magia avete i soldi infiniti e adesso andiamo a fare i punti infiniti puntabilità abbiamo 500 scriviamo 500 i scan ok torniamo al gioco scusate ma non so perché tornato alla schermata di prima ok 500 vediamo a fare 3 0 4 3 3 0 4 next scan scusate ho sbagliato una cosa devo rifare scusate ragazzi non ho sbagliato a fare una roba 5 ma non ho sbagliato alla prossima 194 non se non lo dà giusto sotto 194 ok perfetto che due volte un miliardo anche qua un due tre 1 2 3 1 2 3 ok la spunta come sempre tornate e portate un attimo e come per non ci avete i punti infiniti vedete tanto vi faccio vedere che funziona ecco vedete funziona potenziale al massimo mi tocca ai tanti per fare abilità vedete anche le abilità della pare poi avete anche queste cose che farò vedere i miei acquisti vede qua che abbiamo un miliardo andate a comprare finché non si esaurisce al massimo finché non al massimo così davanti contento comprare fino alla fine ok bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e se interessato mi interessa e scusate se mi va betto un po perché è un'emozione fare con la videocamera visto che non la faccio da solo una volta solo niente spero che il video vi sia stato d'aiuto e lascerò il link in descrizione di chat ingine qua sotto e niente alla prossima da z da tutto presto ciao ragazzi ciao 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 ciao